L'analisi sul voto per l'elezione del Presidente del Consiglio Provinciale della BAT, come anticipato e facilmente immaginabile, sta provocando le reazioni dei delusi. Accade dopo ogni consultazione elettorale, ma in questo caso, con soli 238 elettori, diventa più facile individuare supporti e tradimenti, rendendo questi ultimi ancora più cocenti. Facile, ad esempio, consentire al segretario cittadino del PD di Trani, Nicola Amoruso, di constatare come, nonostante potesse contare come base su cinque consiglieri, il candidato tranese del Partito Democratico, Domenico Cognetti, non sia stato eletto, fatto che ha indotto Amoruso a dimettersi. Reagisce male anche l'andriese Gianluca Sanguedolce, dato per eletto certo e di cui sono state trovate solo poche ossa. Il suo partito, la lista scrittogli, ieri ha diffuso una nota con la quale analizza l'andamento del voto di Andrea, cosa per la verità già nota, per sottolineare che i consiglieri andriesi sarebbero stati generosi con le altre città e concludere con un fumoso sul tema delle alleanze passate, presenti e future si rimanda alle utili dottrine di scienza e fantascienza. Insomma, un dico e non dico buono per tutte le stagioni che comunque evidenziano l'amarezza per il tradimento subito dal proprio candidato. E andate invece su tutte le furie quello che doveva essere il candidato ufficiale del centro-resta di Trani, Stefano Di Modugno. Clamorosamente trombato, ha prontamente comunicato la sua volontà di lasciare Forza Italia dichiarandosi indipendente. Di Modugno si sente colpito oltre che sul piano politico, soprattutto su quello umano. Nella sua nota parla di una maggioranza che a Trani non c'è più, ma non chiarisce se oltre a dichiararsi indipendente passa anche all'opposizione in tal caso. La sua defezione, sommata alla posizione incerta di De Noia, creerebbe un problema serio alla stabilità dell'amministrazione riservato. Nessun commento invece dall'altro non eletto eccellente, cioè il biscelliese Sergio Evangelista, che avrebbe dovuto ricevere il voto dei consiglieri della sinistra, ma così evidentemente non è stato. La sua mancata elezione potrebbe acquire in mal di pancia nella sinistra biscelliese, una parte della quale non ha mai digerito l'accettazione da parte di Franco Napoletano della presidenza del Consiglio Comunale offertagli dal suo storico rivale Francesco Spina. Ci sono poi mal di pancia minori, quelli che riguardano eletti che si sono trovati voti in meno e situazioni come quella di Andrea richiamata dal Movimento Schittulli. Qui i voti sul presidente sono stati più di quelli di cui disponeva il centrodestra. Mentre sono molti di meno quelli sui candidati al Consiglio Provinciale, segno che qualche consigliere del centro o del centrosinistra hanno votato Spina in cambio del voto a se stesso di consiglieri di centrodestra. Insomma, quello che sta emergendo è ancora la punta dell'iceberg di ciò che è successo nel corso di quest'anoma la campagna elettorale. Un mercato delle vacche che, come abbiamo già avuto modo di dire, è solo un piccolo anticipo, uno spuntino di ciò che accadrà quando i consiglieri regionali dovranno nominare il Senato. Speriamo solo possa aiutare a capire dove ci stanno portando le pseudoriforme di Renzi e della sua Corte dei Miracoli, tese soltanto a eliminare il voto popolare dei cittadini.